Anche sulla costa teramana il maltempo della notte passata non ha dato tregua, generando diversi interventi causa soprattutto il forte vento. Il comando operativo dei Vigili del Fuoco di Teramo ha ricevuto diverse segnalazioni su tutto il territorio provinciale, chiudendo alle ore 5 del mattino la serie di interventi quando una vettura guidata da un 48enne è stata colpita da un albero caduto lungo la statale 16 nei pressi della torre di Cerrano esattamente nel confine tra il comune di Pineto e quello di Silvi. Fortunatamente per il conducente solo lievi traumi e tanto spavento per l'arbusto che si è abbattuto sulla carrozzeria del proprio autoveicolo. Sul posto appunto i Vigili del Fuoco che hanno messo l'area in sicurezza liberando la carreggiata insieme ai carabinieri del comando di Roseto degli Abruzzi e il 118. Lo sfortunato automobilista poi è stato trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio di Atri riportando come detto solo leggere contusioni e tanta paura. Le varie amministrazioni comunali nel frattempo tramite i propri canali whatsapp continuano ad informare i cittadini sull'evolversi della situazione ovviamente pregando di prestare la massima attenzione per tutto il fine settimana quando forse in modo definitivo ci sarà il primo assaggio della stagione più fredda dell'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.